Penso che sia un primo grosso intervento sul tema della sicurezza nei treni e nelle stazioni che vede non solo un profilo di sicurezza in senso stretto e quindi una piena collaborazione che già c'è tra ferrovie e forze dell'ordine ma abbiamo ritenuto essenziale anche un coinvolgimento della regione e dei comuni perché la sicurezza passa anche attraverso tutta un'attività di informazione, di comunicazione, di rafforzamento delle videosorveglianze in quelle che verranno individuate come stazioni o tratte meno sicure e più critiche e soprattutto un lavoro anche di educazione alle legalità da parte, i fenomeni di bullismo soprattutto sui treni sono abbastanza frequenti, ecco noi vogliamo prevenire tutte queste attività. Il prefetto Palomba ha avuto questa idea di far sedere di fronte a un tavolo tutte quelle componenti che avrebbero potuto dare una mano a far sì che la presenza di uniformi quindi non solo di tecnologie possa essere come dire razionalizzata e far sì che in alcuni momenti quelli topici diciamo di una giornata di flusso ferroviario non siano lasciati al caso ma trovino invece una risposta ben precisa attraverso un'organizzazione capillare su tutto il territorio della regione Piemonte e in quelle stazioni su quei treni dove diciamo in quel momento della giornata ci sono potrebbero così anche solo in linea teorica crearsi dei problemi dal punto di vista anche della sicurezza. Tra l'altro viene spontaneo diciamo il collegamento con la lunga giornata di Rogoredo parlando di sicurezza di treni. Beh, il Rogoredo è stato un posto avanzato come diciamo noi, una scelta da parte delle ferrovie dello Stato, di creare un nuovo hub come voi sapete e quindi in questo hub noi siamo compartecipi nel senso la sicurezza fisica dei passeggeri, far vedere che ci siamo, non soltanto far vedere ma far percepire che esattamente la nostra presenza non è una presenza legata soltanto a guardare che non succeda nulla ma anche a tutelare che tutti quelli che per bene, che sono poi la maggior parte come sapete, possano viaggiare tranquillamente senza avere problemi, senza pensare che possa esserci chi lo aggredisce, chi gli ruba qualcosa, chi provoca qualche rissa. La polizia ferroviaria è una specialità fondamentale per quanto riguarda la sicurezza dei viaggiatori, la sicurezza degli impianti e la sicurezza diciamo di tutti i cittadini che transitano anche diciamo attraverso le nostre frontiere perché la particolarità del Piemonte è proprio questa, l'essere vicino alle frontiere del nord. Anci Piemonte aveva dato la sua disponibilità fin dall'inizio, da quando qualche mese fa insieme alla Prefettura, su iniziative della Prefettura ma con Regione Piemonte avevamo individuato alcune situazioni critiche in alcune stazioni del Piemonte che andavano gestite con particolare attenzione, evidentemente i comuni sono direttamente coinvolti, è necessario anche avere le risorse per esempio riqualificare le aree antistanti alle stazioni e quindi è necessario che anche su questo faremo un ragionamento con la Regione per evidente che i comuni che sono coinvolti siano aiutati dal punto di vista anche economico a realizzare queste riqualificazioni. La sicurezza era e rimane uno dei temi fondamentali su cui il mio governo regionale vuole impegnarsi e oggi firmiamo a soli due mesi dal nostro insediamento un atto concreto che mette risorse, che potenzia la presenza della polizia sui treni, che incrementa la videosorveglianza e quindi tutte azioni concrete per far sì che i cittadini piemontesi che saliranno sui nostri treni sapranno che sono treni più sicuri. Dobbiamo ancora fare molto perché i treni devono anche essere belli, devono essere in orario, devono essere frequenti, devono essere dignitosi per quanto riguarda la pulizia interna e i servizi, ma devono anche essere sicuri. La speranza viene dall'Europa e lo stiamo dimostrando concretamente. La TAV la faremo con più risorse europee perché l'Europa ha aumentato il contributo del 55%, finanzierà al 50% anche le tratte nazionali. Sull'asticunio abbiamo ottenuto dall'Europa il fatto che non si debba avere un parere preventivo, ma che potremo trattare questa nuova soluzione che ci permetterà di far partire i cantieri già dal prossimo mese di settembre. L'Europa è un'opportunità, bisogna saperla cogliere, noi abbiamo fondi importanti e i fondi migliori sono quelli che destinano a fare star sicure le nostre persone anziane e i nostri giovani che prendono il treno.